ciao a tutti è un momento molto difficile e complicato e lo sto vivendo come tutti voi cercando di essere più positivi possibile perché in questo momento così dobbiamo essere positivi ognuno di noi dobbiamo dare il nostro contributo non è facile stare lontano di tutto della gente del campo da tutti quello che a noi piace di fare chiaramente ma in questo momento così dobbiamo rispettare la regola con questo contributo speriamo di trovare il più presto possibile insieme per abbracciarci la verità è che in questo momento la profittiamo per stare insieme in nostra famiglia io a casa con mia moglie come figlio ma sempre con pensamento pensiamo sempre a quello che sta in zona rossa dove la cosa è complicato ma cercando di essere più positivi come detto cerco di rinarmi perché abbiamo sempre i nostri programmi e ci seguiamo da prof e facciamo tutto quello che dobbiamo fare anche se siamo nel momento difficile ma anche essere professionisti di fare le cose giuste perché questa è nella nostra vita non possiamo farlo fuori insieme a campo come facciamo sempre lo facciamo in casa sempre con una determinazione con una mentalità giusta quindi cercheremo di fare sempre quello che possiamo fare sappiamo che non è non è massimo ma approfitteremo questo momento anche insieme a famiglia per recuperare in africa in questo momento la situazione è molto più tranquilla penso che in nigeria avremmo meno di 350 casi positivi poco in terapia intensiva quindi il problema più grosso è qui con noi da noi qua in italia io sono sempre in contatto con mia famiglia e loro sono preoccupati tantissimo per noi qui in italia perché le leggono sempre seguono le notizie io sempre cerco sempre di tranquillizzare e di essere positivi perché la distanza non è facile per loro anche sapendo che noi siamo qua in italia e siamo a rischio ma cerco sempre di tranquillizzare e passare un messaggio positivo e anche spiegando il livello di pericolo che c'è con questi virus perché loro devono stare anche attento onestamente io sono molto più preoccupato con la gente sanitaria che sta lottando tutti i giorni passava la nostra vita le riprese del campionato non dipende da me non da noi c'è la gente che deve fare deve decidere da quando e come quindi a noi non solo stare pronto per quanto dicono che debbiamo andare torniamo a campionato ma in questo momento io sono molto più preoccupato con la gente sanitaria con la gente che sta soffrendo con questi virus sì la nostra stagione fin qui è stato positivo siamo dove vogliamo stare su in classifica luttando per il nostro obiettivo ma sfortunatamente è arrivato questo periodo complicato e dobbiamo affrontarli tutti insieme per quanto torniamo per quando torniamo in campo riusciamo tutti insieme a conseguire arrivare il nostro obiettivo e da quando sono arrivato a crotone posso dire le cose positive io trovo benissimo qua mi trovo benissimo con la mia famiglia e sto giocando per una società ambizioso perché da quando sono arrivato fino adesso siamo in costante crescita questa è la verità abbiamo fatto cose importanti adesso stiamo cercando di rifare un'altra cosa importante quindi sono molto contento di stare a crotone di continuare la mia carriera qui a crotone ho dato un segnale forte rinnovando mio contratto anche in scadenza vuol dire tutto vuol dire che io sono veramente bene qui a crotone io io sono contento di essere qui e a crotone mi piace un po di tutto ma soprattutto la tranquillità la serenità che che esiste la città di crotone per me è fondamentale io mi trovo benissimo qua e sono contentissimo di essere qua sì per me è molto importante è molto ma molto importante ognuno di noi fare la sua parte cercando di qualche modo di aiutare chi ne ha bisogno perché è così si costruisce un mondo migliore e dobbiamo essere tutti una famiglia oggi può posso essere io aiutare domani fosse io che ho bisogno di aiuto quindi lo vedo così non è una cosa speciale da fare lo vedo come un dovere da parte mia da parte di tutti noi di dare sempre una mano a chi ne ha bisogno sì è vero momento difficile c'è stato ma per me è molto importante controllo emozionale per me è una cosa più importante per fare questo lavoro educazione che non devono fatta rispetto a nessuno non possiamo perdere per delle testa una cosa che non possiamo controllare dobbiamo essere sempre calmo cercando di passare messaggio positivo divertire giocare e anche far divertire la gente che viene allo stadio e tutti il resto non posso perdere la mia testa perché prima dei giocatori c'è un uomo dietro quindi è importante per me stare calmo e andare avanti con la mia strada sicuro sicuro